Ciao, in questo episodio vedremo l'utilizzo della libreria per controllori Sysmac NXR-ILE. Questa libreria dispone di funzioni che semplificano l'interpretazione dei byte di scambio tra il PLC e i dispositivi IO-Link della famiglia NXR. Infatti, sono disponibili delle funzioni che traducono i byte di scambio in strutture dati opportunamente formattati. In questo modo è molto più semplice accedere alle informazioni relativi ai vari PIN delle porte dei dispositivi, sia del master che degli hub. La configurazione del sistema che andremo a utilizzare è la stessa utilizzata nell'episodio in cui spiegavo la configurazione e l'utilizzo del master IO-Link Ethernet IP NXR-ILM08C. Per maggiori informazioni sulla configurazione e tutti i passaggi vi consiglio la visione di quell'episodio. Quindi, ricapitolando, abbiamo il master IO-Link NXR, nella porta 1 una fotocello della famiglia E3Z, nella porta 2 l'hub NXR-ID e nella porta 3 l'hub NXR-CD. Il tutto collegato in Ethernet IP al controllore NX1-P2. Ovviamente, tramite il PC e tramite Sysmac Studio, andremo a vedere come utilizzare le funzioni della libreria NXR-ILM. Partiamo già dalla condizione di aver configurato la rete Ethernet IP e di aver messo in scambio gli array di byte tra il master NXR-ILM e il PLC. In particolare, andremo a utilizzare l'assembly input 112 per poter gestire dal PLC gli ingressi dei dispositivi IO-Link, mentre per l'uscita facciamo riferimento all'output assembly 132 con 18 byte totali. Partendo da questa configurazione, andiamo ora in Sysmac Studio e vediamo come sfruttare e utilizzare le funzioni della libreria NXR-ILM. Per cui, partiamo da Sysmac Studio. Io ho già importato la libreria NXR-ILM. Per chi non l'avessi già fatto, bisogna andare sotto progetto libreria e andiamo sullo show reference a inserire la libreria col tasto più. Questa è la libreria già importata. Una volta importata, vedete anche la possibilità di andare a scaricarla al legato, che è nient'altro che il PDF, con il manuale della libreria. E possiamo quindi adesso andare a vedere le funzioni. La prima funzione che voglio utilizzare è la NXR-ILM Read Status. Questa funzione non va altro che mappare i primi 30 byte dell'input assembly all'interno di una struttura in cui è possibile facilmente accedere alle informazioni dello status del master IO-Link NXR-ILM 08C. Per cui, come prima cosa, andiamo ad aggiungere una rung con un contatto davanti per abilitare la conversione dei dati. Lo chiamo enable com 1. Aggiungiamo quindi la funzione e come ingresso mettiamo il nostro byte input assembly 112. In uscita, quindi, andiamo a scrivere NXR-M master, ossia ora io qui ho mappato tutte le informazioni dello stato del master. Ora vado online e andiamo a scaricare questo progetto e andiamo a vedere cosa leggiamo nel NXR-Master Status. Faccio execute, yes, e andiamo a vedere. Ok, andiamo a vedere adesso se riusciamo effettivamente a leggere qualcosa con la nostra funzione. Per cui andiamo ad abilitare la comunicazione e andiamo a vedere la variabile NXR-Master Status. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Quindi, program 0, NXR-Master Status. Dovremmo andare a vedere anche se la master è alimentato, se c'è il power supply, se sono dei problemi. Attenzione, vediamo tutto 0. Qualcosa non sta funzionando. Non abbiamo, al momento, io vedo che non ci sono informazioni. È come se tutti i byte input fossero tutti a zero. Cos'è successo? Cos'è successo? Che quando io ho trasferito il progetto a Sisma Studio, se avete fatto caso, magari chi ha l'occhio in queste cose, c'è già cascato, l'ha notato, quando io ho trasferito il progetto, ho lasciato volutamente non spuntata l'ultima punta del trasferisci. Questo che cosa ha fatto? Mi ha praticamente cancellato tutta la configurazione Ethernet IP fatta in precedenza. Per cui ricordiamoci sempre che quando andiamo a scaricare il progetto di Sisma Studio in una rete Ethernet IP già configurata, di stare attenti che ci sia la spunta nell'ultimo check del trasferisci, perché altrimenti verrà sovrascritta, quindi verrà cancellata, tutta la configurazione Ethernet IP. Per cui ora cosa mi resta che fare? Non devo altro che ritornare in Ethernet IP e riscaricare nuovamente la configurazione. Quindi download e scarichiamo nuovamente la configurazione Ethernet IP del dispositivo. Una volta fatto ciò, noteremo che saranno correttamente scambiate le informazioni tra il PLC e il master. Come vedete adesso già inizia a popolarsi, vedremo come in Power Supply abbiamo dei dati, ovviamente qua convertiti in decimale 24.1, vuol dire 24 volt. Andiamo qui sotto, ad esempio sulle porte, vediamo lo status, se sono delle porte in errore. Posso, visto che ho la fotocellula collegata alla porta 1, posso andare sul pin digitale, vediamo adesso sul pin 2 della porta 1, vedete che si sta alzando e abbassando il bit, quindi correttamente riusciamo a leggere le informazioni, sono anche mappate all'interno di questa struttura. È molto più semplice eseguire la lettura. Anche per quanto riguarda l'informazione IO-Link, sulla porta 1 vedete il true relativo alla fotocellula IO-Link collegata. Andiamo ora a utilizzare un'altra funzione che converte i byte relativi alle informazioni dell'NXR hub, quindi NXR ID prima e NXR CD dopo, che li converte in strutture dati. In questo modo è molto più semplice accedere alle informazioni dei vari pin delle porte dell'hub. Quindi partiamo da NXR ILM read NXR ID, vado, faccio una modifica online, aggiungo subito dopo la funzione, anche qui come assembly var è sempre lo stesso, quindi byte input 112. L'NXR CD nel mio caso è collegato alla porta numero 2 del master IO-Link, quindi qui come port number vado a mettere numero 2. E SPORT, STPORT è la struttura dati relative all'NXR ID. In questo modo vedremo le informazioni dell'hub all'interno di una struttura dati opportunamente formattata. Mentre per quanto riguarda l'NXR CD, andiamo a prendere la funzione NXR ILM read NXR CD, in questo caso l'assembly byte è sempre lo stesso, il 112, e andiamo a mettere invece la porta dove è collegata la ciabatta hub NXR CD che è la porta 3. In questo caso l'uscita sarà, la chiamiamo, NXR CD status. Ora trasferiamo, naturalmente in questo caso io non vado a sovrascrivere la configurazione Ethernet IP, vado solo a fare questa modifica online al volo. Se andiamo ora a vedere le variabili NXR ID status e NXR CD status, vedremo le informazioni mappate in struttura dati per cui andiamo ad aggiungere program0.nxr ID status, andiamo a espandere e vedete come input data, vedete tutto mappato con porta 1, pin 4, porta 1, pin 2. Adesso io ho collegato una fotocellula digitale alla porta 1 sul pin 4, vedete che si sta appunto abilitando. Naturalmente tutte queste informazioni le trovate sul manuale dell'hub NXR. Andiamo ora a vedere su program0.nxr CD status, invece l'altro hub NXR abbiamo i vari pin, delle varie porte e tutte le informazioni relative a questo hub. Quindi abbiamo visto come andare a leggere e andare a codificare in struttura dati gli input assembly relativi al master IO-Link e ai due hub NXR ID e NXR CD. Se vogliamo invece gestire e andare a scrivere e a utilizzare le uscite disponibili sia nel master che nel lab NXR CD, dobbiamo andare a utilizzare l'output assembly con relative funzioni. Quindi andiamo ad aggiungere il rank qui sotto e vedere come gestire le uscite. Come prima cosa però vado offline e aggiungo il rank, anche qui metto un contatto per abilitare la conversione, la chiamo enable.com2 in questo caso, e vado ad aggiungere come prima cosa l'NXR ILM Vryde Port, ossia in questo modo è possibile andare a comandare i pin del master IO-Link come uscita. Naturalmente in precedenza devo già avere configurato e impostato quel pin del master IO-Link come un digital output. Per cui andiamo a prendere l'NXR ILM Vryde Port, andiamo a definire qui sempre l'output assembly in questo caso, quindi byte auto.32 che corrisponde ai 18 byte, di cui i primi due relativi al master e i successivi a coppia di due relativi alle varie porte. Qui invece andiamo a definire questa variabile che è una struttura in cui ci sono le varie porte con i rispettivi pin. Andiamo dopo a vederla in live come è composta. Andiamo ora invece ad aggiungere anche l'altra funzione, l'NXR ILM Vryde NXR CD, con cui gestiamo appunto le uscite del lab NXR, byte output 132 come assembly var, che è quella appunto generativa alle uscite, mentre come port number è installata la lab NXR CD, per noi è la porta 3, mentre sopra non è altro che la variabile che al suo interno contiene tutta la struttura dati con i pin delle varie porte dell'hab NXR CD. La chiamo write data in questo caso. Ora possiamo andare online e mi raccomando, questa volta dobbiamo mettere la spunta all'ultima voce, quella che dice non trasferire la configurazione in setup Ethernet IP, in quanto altrimenti lo andremo di nuovo a sovrascrivere. Ora completiamo il trasferimento. Ok. Andiamo come prima cosa ad abilitare i contatti, sia per l'input e naturalmente adesso quelli anche per l'output, e andiamo a vedere la variabile prima, la port NXR master, quindi program0.port NXR master. Quindi ora, se vi ricordate, per poter abilitare l'utilizzo delle uscite dell'hab NXR CD, dobbiamo andare a abilitare, ad alzare, il pin 2 relativo alla porta IO-Link in cui l'hab è collegato. Nel nostro caso l'hab è collegato alla porta 3, per cui andiamo a porta 3, pin 2 e mettiamo a true. In questo modo, se abbiamo l'hab NXR davanti a noi, vedremo che si accenderà il LED relativo all'output power. Per cui ora possiamo andare a gestire le uscite, che naturalmente devono essere precedentemente configurate, ad esempio tramite il CX configurator FDT. Quindi andiamo sotto program, write data, e andiamo ad alzare il pin, il pin 2 della porta 1. In questo modo, se abbiamo la ciabatta davanti, vedremo che si accenderà anche il LED relativo a questa uscita. Possiamo quindi ora andare a vedere anche le altre funzioni che ci rimangono, sono le funzioni più generiche, che sono il NXRLM read generic dev e write generic dev. Naturalmente la prima per leggere agisce sull'input assembly, mentre la seconda agisce sull'output assembly. Per cui procediamo, andiamo a eseguire una modifica online, e mi metto, ad esempio, più in fondo alla prima rang, la function NXRL read generic device. Nel mio caso voglio andare a gestire, per esempio, il dispositivo IO-Link posto sulla porta 1, che è la fotocellula E3Z. Quindi qua metterò sempre l'input assembly, la porta 1, e come byte dovrò, in questo caso, andare a definire un array di byte generico. Questa function block, come vedete, non specifica la dimensione, in quanto dipende dalla tipologia di input assembly che andiamo a utilizzare. Quindi nel mio caso, posso andare a definire qui una variabile, che poi andrò a sistemare nella mappa delle variabili locali, la chiamo come device, anzi, my device, e andiamo ora a vedere sulla mappa delle variabili locali. Nel mio caso, andrò a definire come 32, quindi da 0 a 31, in quanto questo input assembly dispone di 32 byte per porta. Ora posso andare a vedere questo my device, cosa mi mostra. Queste sono le informazioni dell'input assembly, per cui il my device non è altro che un'estrazione dei 32 byte relativi alla porta 1. Program 0 my device, e sono le stesse informazioni che vediamo prima, però riferite solo a quella porta ben specifica. Andiamo ora a vedere velocemente anche la funzione NXRILM write generic dev. In questo caso, posso andare a definire come sempre byte output il 132, e come porta vado a utilizzare la porta numero 4. Quindi nella porta numero 4 dell'iolink master e i vari byte che corrispondono alle uscite. In questo caso, mettiamo my device write tra un array di soli 2 byte, perché ricordiamo che quell'output assembly associava solo 2 byte per ciascuna porta del master iolink. Quindi tra 0 e 1, come array di byte. Quindi una volta trasferito nel progetto, posso andare anche a gestire i due byte d'uscita direttamente come my device write. Quindi ricapitolando, queste funzioni sono utili perché convertono i byte di scambio in strutture dati, e permettono anche l'estrazione dei byte corrispondenti alle singole porte del master iolink oppure degli hub NXR. Quindi in sintesi, la libreria NXRILM mette a disposizione questa serie di funzioni che semplificano e aiutano l'interpretazione di byte di scambio tra il PLC e il master iolink. Se vi fa piacere, vi aspetto anche nei prossimi episodi della serie in cui vi mostrerò anche la configurazione e l'utilizzo degli altri master iolink Ombron.